Giacomo Tranchida durante la presentazione della lista insieme per la città ha annunciato il secondo assessore designato qualora fosse rieletto. Si tratta di Giuseppe Virzi, 45 anni, educatore e già consigliere comunale uscente appartenente all'attuale maggioranza di governo. Laureato in scienze dell'educazione e della formazione, Virzi è da sempre in prima linea al servizio dei giovani ed è responsabile delle attività sociali dell'oratore salesiano di Trapani. Ci sono dei disagi nei quartieri che bisogna saper cogliere per affrontarli e per evitare che i quartieri rischino di essere ancora a periferia. Io penso che con Peppe Virzi avremo una marcia in più come amministrazione comunale. Inizia un percorso e Trapani in cammino non si ferma, non si può fermare. Sono emozionato per questa nomina ma soprattutto per il peso della responsabilità che sto assumendo anche nel portare avanti questo nuovo progetto civico perché a me piace definirlo così. Insieme per la città, proprio in cammino insieme, partendo appunto da quelle situazioni che dobbiamo cercare di portare avanti e migliorarle partendo dall'ascolto dei cittadini, dalle loro proposte e dalle loro idee.